Ancora due mesi il piano spiaggio del comune di Termoli verrà finalmente approvato in consiglio. Lo strumento che regola l'utilizzo del demanio attribuisce a ogni singolo tratto una sua destinazione è già pronto da diversi anni e al suo interno si trova anche la ricognizione degli accessi al mare pubblici e chiusi con gli anni da privati che si sono ritagliati un pezzo di spiaggia a proprio uso e consumo chiudendolo a turisti e bagnanti. Il piano era stato elaborato da un gruppo di professionisti che avevano vinto un bando sotto l'amministrazione guidata da Vincenzo Greco. L'attuale giunta lo ha ripreso e inviato alla regione per ottenere la valutazione ambientale strategica e ora dalla stessa regione hanno dato l'ok all'avvio della VAS. Dagli uffici di via Genova hanno ritunito di dover dare una valutazione che riguardasse tutte e quattro i comuni della costa per una visione più generale uniforme del territorio ha spiegato il vice sindaco Enzo Ferrazzano con delega al demanio. La VAS è stata consegnata dai due tecnici incaricati dalla regione e inviata al comune di Termoli. Resterà pubblicata per 60 giorni entro i quali si potranno fare obiezioni e osservazioni. Poi arriverà l'ok definitivo e dunque la possibilità che il piano tanto atteso dagli imprenditori del settore approdi definitivamente in consiglio. Nel documento di programmazione sono previste anche nuove concessioni dei maniali per gli stabilimenti in tutto 6 tra Rio Vivo e Lungomare Nord.